Segnali positivi in settimana per il Taranto che prepara la trasferta contro la Putiolana, gara che si disputerà a Torre Annunziata. Mister La Terza potrebbe contare nuovamente sul difensore Ferrara, sul centrocampista Ba e l'attaccante Alfagheme, tutti aggregati al gruppo. Una delle note liete della gara di domenica scorsa contro il Bitonto è stato sicuramente Sufjan Lagzir, autore della doppietta su calcio di rigore. Il fantasista marocchino è in grado di ricoprire tutti i ruoli d'attacco, ma nella posizione di destra riesce ad essere letale con il suo piede di calcio, il sinistro. Una chiave di volta per il gioco degli Ionici, vista l'assenza per squalifica dell'argentino Guaita e lo stesso Lagzir ai nostri microfoni a sottolineare l'importanza della sua attuale collocazione tattica. Nasci come trequartista, ma noi abbiamo visto tanti filmati con te sull'incastonato sul settore di destra che rientri con il piede di calcio per trovare la conclusione a rete. Come ti sei trovato in questo ruolo, seppur orfano di Guaita, perché vi scambiavate molto? Sì, sì, no, quello è il mio ruolo. Quando sono lì cerco di dare il massimo. È normale che da trequartista devi far giocare più la squadra, lì invece ho più possibilità di andare in porta e lo sfrutto molto. E per fortuna è andata bene.